Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Io sono Fio e questo è il canale della Mela. Io oggi sono sicurissima che la mia community saprà gestire al meglio questa storia, che è forse la più difficile da raccontare, perché passare di là in questa storia e cadere nel giudizio sterile è davvero un attimo. Se vogliamo è anche umano, è stato fatto con la protagonista della nostra storia. A lei non è stata risparmiata una gogna collettiva, anche dopo che il suo destino si era compiuto. Sarò molto emozionata perché anche durante la ricerca, quando mi sono immersa completamente dentro alla protagonista di questa storia, mi sono commossa molto. Ma inizialmente ho avuto un pizzico di scetticismo anche io. Perché sono molto emozionata? Perché è molto difficile raccontarvi di lei. È difficile raccontarla. Lei è così diversa, così libera e il diverso spaventa sempre e viene vissuto con giudizio. Quindi oggi io vi racconto la storia di Giuseppina Pasqualino di Marineo, meglio nota come Pippa Bacca. Chi è Pippa? Beh, Pippa è un personaggio molto complesso da raccontare che necessita di tempo e di un'apertura mentale per poter essere compreso fino in fondo. Pippa è nata a Milano il 9 dicembre del 1974 e all'epoca dei fatti che sto per narrarvi ha 33 anni ed è un'artista italiana con una propria identità ben strutturata. Pippa partiene ad una nobile famiglia alla quale è stato riconosciuto durante il regno d'Italia. Il titolo nomiliare è di Patrizio di Bari, trasmissibile ai maschi della famiglia. Sorrido perché dall'unione tra Guido di Marineo e Elena Manzoni in realtà nasceranno cinque figlie femmine. Piccola divagazione non meno importante, Elena Manzoni è proprio lei, la sorella dell'artista famosissimo Piero Manzoni e per chi non lo sapesse, casomai, è colui che ha ideato i 90 barattoli di merda d'artista, tra le altre cose, e lui è scomparso prematuramente a 29 anni d'età. Il papà di Pippa, Guido, si occupa di comunicazione e di pubblicità e la coppia, come vi dicevo, ha cinque figlie femmine, Rosalia, Antonietta, poi c'è Pippa, Valeria e Maria. E quando Pippa ha cinque anni, Elena e Guido si separano e Guido si risposa e ha un altro figlio, Francesco. È proprio Francesco il fratellino di Pippa con cui l'artista ha un ottimo rapporto a darle questo buffo nome d'arte. Pippa sceglie di chiamarsi Pippa in arte quando ha 18 anni dal momento che Francesco la chiama sempre Pippa non riuscendo a pronunciare Giuseppina e poi Pippa decide di aggiungere la parola bacca dal momento che in centro Italia bacca significa coccola e anche perché il dio bacco per Pippa è molto simpatico. Dopo la separazione dei genitori, la madre Elena va a vivere con le figlie in uno degli alloggi popolari dell'Aler in Corso Garibaldi a Milano. Le cinque sorelle sono legatissime e molto diverse fra di loro. Da adulte diranno di essere come le parti di un solo neurone con il quale sentono, ragionano e sono sempre collegate. Fin da bambine le cinque sorelle sono sempre vestite tutte allo stesso modo. Se di un vestito non vi era la taglia per tutte, semplicemente non si acquistava. Fin da bambine queste cinque sorelle si specializzano nell'organizzazione di feste ed eventi e la loro è una famiglia, lo vedremo con abitudini molto speciali e molto aperta al prossimo e alla socialità. Pensate che la madre Elena ogni 15 giorni invitava molta gente nella loro grande casa e le cinque sorelle contribuivano alla realizzazione dell'evento, proprio alla sua organizzazione. Cucinavano, allestivano, lavavano poi tutti i piatti quando la festa era terminata. Che vi possa sembrare strano o meno è questa l'impronta educativa della famiglia nobile e poco convenzionale di Pippa, l'accoglienza. Un altro punto da sottolinearvi nell'educazione di Pippa e delle sue sorelle è il concetto di viaggio come esperienza di condivisione, di scoperta e di incontro. Dopo la separazione Elena acquista un furgone colorato che chiama Bardecchino e con questo furgone viaggia insieme alle sue figlie per l'Italia e per l'Europa. Nel 1986, a seguito di un incidente, il furgone è distrutto e allora Elena decide di iniziare le sue giovani figlie alla pratica del viaggio in autostop. Le inizia in realtà al viaggio a piedi e, casomai, al viaggio in autostop. Punto fondamentale del nostro racconto, tutto quello che vi dico non è lasciato al caso. Quindi dentro casa di Pippa viaggiare in autostop è assolutamente la normalità, è una tradizione di famiglia e pare anche che il Piero Manzoni, l'artista di cui vi parlavo, facesse spesso l'autostop e ne ha lasciato traccia nei suoi diari. Il primissimo viaggio che Elena compie con le sue figlie in autostop e pensate che la più piccola ha appena 7 anni, è il ritorno dal cammino di Santiago. Io mi scompenso a prendere l'aereo per arrivare in Sicilia. Lei con 5 figlie piccole viaggiava in autostop dal cammino di Santiago fino all'Italia. Però la loro non è una famiglia hippie, è piuttosto una famiglia molto credente e praticante che ha come tema centrale il concetto di fiducia e di accoglienza nel prossimo. Anche l'autostop per questa famiglia è un atto di fiducia, è un atto di affidamento al prossimo condito anche da un pizzico di avventura, di spirito di adattamento e di allegria ed è una cosa che appartiene moltissimo ad Elena e a tutte le sue figlie. La madre di Pippa Elena è una pioniera dell'autostop e pensate che da ragazza si spostava in autostop per andare da Milano al lago di Garda e poi in Grecia, poi in Germania e in Francia. E anche qualche anno fa, oggi lei è una nonna, ha fatto un viaggio in autostop insieme alla sua nipotina Emma per venire qui in Romagna a Mirabilandia. Oggi Elena, pensate, ha un furgone con un letto che usa per girare l'Italia e per trovare tutti gli amici e le amiche che ha sparse per le diverse regioni. Dopo qualche anno dalla sua separazione Elena diviene anche priora della confraternita di San Jacopo e questa confraternita ha proprio lo scopo di dare supporto logistico e spirituale a chi decide di compiere il Cammino di Santiago. Ad esempio si sconsiglia di partire in gruppo a chi partecipa al Cammino di Santiago ma in solitaria perché il viaggio è prima di tutto una scoperta interiore e quindi bisogna staccarsi dalle proprie sicurezze per potersi aprire agli altri e Pippa, lo vedremo poi, faceva proprio questo. Crescendo chiaramente ognuna delle sorelle trova una sua strada e mantiene però forte questo legame fatto di tradizioni e di comunione. Rosalia lavora nella fondazione Piero Manzoni mentre Antonietta è laureata in architettura ma una società di catering. Pippa invece è un artista e lo vedremo tra poco nel dettaglio è specializzata in arte performativa mentre Valeria è mestra d'asilo e Maria studia geologia ma lavora sempre alla società di catering perché in fondo in fondo mangiare bisogna mangiare. Ora vi dico di più di Pippa, il suo vero nome ve l'ho detto è Giuseppina Pasqualino di Marineo e noi tutti la ricordiamo con il nome buffo anche se vogliamo di Pippa Bacca che in realtà è uno pseudonimo ed è solo una delle sue cinque alter ego. Cerco di spiegarmi meglio, l'artista pensa di avere cinque personalità, cinque alter ego non è folle, ve lo chiarisco, è un qualcosa di più sottile da comprendere. Allora abbiamo detto che c'è Pippa Bacca che è appunto l'artista. Poi c'è Pippa Pasqualino di Marineo che è una ragazza che lavora in un call center di servizi interbancari e lo fa semplicemente per finanziare i suoi progetti e la sua arte quindi lavora in questo call center perché vuole finanziare l'arte di Pippa Bacca. Abbiamo anche Eva Adamovic spero di dirlo bene che è la curatrice di mostre per la fondazione Pippa Bacca ed è anche con lei che ha fondato il gruppo delle bubblegum come le cicche, noi romani le chiamiamo così, come la gomma da masticare. Eva quando si presenta al pubblico indossa un boa di piume verdi, una parrucca nera, dei tacchi ed è rigorosamente altera e piena di charme. Infine c'è anche un'ultimissima personalità che appare molto di rado ed è una supereroina detta coniglio verde il cui corpo nudo è coperto soltanto da un mantello verde ma come vi dicevo questa personalità di Pippa appare molto di rado. Mi rendo conto che sia difficile a comprendere, è anche difficile da spiegare l'estro, la creatività e anche l'essere estrianica di Pippa ma credetemi lo capirete andando avanti nel racconto che tutto ha un senso. Una cosa ad esempio che notiamo subito è tutto questo verde. Pippa, un'altra curiosità, si veste solo di verde. Non sto scherzando, lei si veste rigorosamente soltanto di verde dalla testa ai piedi. Non indossa nessun altro colore ad eccezione di quello delle mutande che le usa rigorosamente con i personaggi della Walt Disney. l'armadio di Pippa è pieno di ogni tipo di vestiario verde di ogni sfumatura possibile. Verde bottiglia, smeraldo, verde acido, verde pistacchio e via dicendo. Un'altra cosa che vi dico è che Pippa è vegetariana ma mangia solo una volta all'anno il pesce al ristorante perché le piace molto. Va anche matta per i dolci, non fuma e anche se ha la patente se proprio deve usare un mezzo di trasporto usa una bicicletta verde. È molto credente Pippa e ha sempre la catenina di San Giuseppe al collo. Pippa la mattina quando si alza va in piscina, fa 40 vasche, poi prende la sua bicicletta verde e va a lavorare in questo call center dove lavora semplicemente appunto per finanziarsi. E per lei viaggiare soprattutto significa viaggiare in autostop ed è una cosa normalissima. Pippa viaggia tantissimo, parte spesso praticamente ogni weekend per andare a trovare qualche amico o amica e alle spalle moltissimi, moltissimi viaggi in autostop fin da quando era bambina. Pippa ha girato buona parte dell'Europa, è stata in Istanbul, a San Pietroburgo, in Irlanda del Nord e in Centro America. Durante le lunghe attese per trovare un passaggio perché si aspetta molto, spesso si aspetta davvero tanto prima di ricevere un passaggio, Pippa recitava il rosario e se era in compagnia raccontava al suo accompagnatore la vita dei Santi che conosceva molto molto bene. Durante i suoi viaggi poi Pippa teneva un diario della sua giornata dove scriveva un po' un diario di bordo dell'autostop, chi aveva conosciuto, dove era stata e che cosa aveva visto. Pippa inoltre è molto bene attrezzata per i viaggi in autostop, ha delle cartine, ha degli atlanti e si muove con dei cartelli ben visibili dove scrive il nome della sua prossima destinazione. Effettivamente si ha la sensazione viaggiando in autostop di dipendere totalmente dagli altri ma Pippa spiega che non è proprio così, proprio perché tu puoi comunque in qualche modo muoverti e regolare il tuo viaggio anche se poi di fatto il tuo viaggio dipende dagli altri. Ad un certo punto Pippa inizia anche a fotografare tutti coloro che le danno un passaggio, fa proprio una sorta di database della persona che le dà il passaggio in autostop, ovviamente chiede il permesso e quando può registra anche le sue conversazioni spontanee che nascono in auto. Vi racconto un fatto molto curioso, fra le foto ritrovate di Pippa venne anche una di Luciana Litizzetto, la nota comica. Pensate che Pippa non conosceva affatto Luciana Litizzetto perché Elena, sua madre, non aveva mai tenuto in casa una televisione e Pippa e le sue sorelle crescendo non avevano in effetti mai sentito l'esigenza di guardarla o di possederla. Quindi loro non conoscevano i personaggi famosi della televisione e dello spettacolo e quindi Pippa chiede un passaggio in autostop un giorno e si ferma Luciana Litizzetto, ma lei non lo sa. Pippa inoltre teneva una rubrica, un file Excel, dove aggiornava in continuazione tutte le persone, tutti i nomi di persone, i numeri di telefono di coloro che le davano un passaggio in autostop in modo da rimanere sempre in contatto con loro. Possedeva migliaia di numeri, migliaia di contaminazioni positive nel mondo. Pippa poi ve l'ho detto ha fondato questo gruppo musicale dal nome Bubblegum, un coro di donne frivole che in realtà sono frivole solo in apparenza e a cui Pippa è molto legata. Questo coro musicale di Pippa è un coro anarchico e funziona così. Loro fanno le prove e chi c'è c'è, chi non c'è non c'è e per lo stesso principio quando hanno uno spettacolo se sono in due, in tre, chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. Pippa è legata sentimentalmente ed è fidanzata con Giovanni, detto più semplicemente il Chiari. Pippa e il Chiari si conoscono nel 2006 grazie a Maria, quella sorella di Pippa che frequenta Geologia insieme proprio a Giovanni all'università di Milano. Pippa e il Chiari provengono da mondi molto diversi e molto distanti eppure scoprono ben presto di avere tante cose in comune. Ad esempio amano viaggiare e odiano festeggiare il Capodanno. Pippa ha certamente un modo tutto suo di comunicare le sue emozioni e inizialmente il Chiari ne è quasi un po' spaventato. Pippa gli fa molte sorprese, gli scrive molte lettere a cui lui non risponde mai e lei si arrabbia tantissimo. Ad esempio una sera il Chiari non va a trovare Pippa perché preferisce vedere degli amici dell'università e lei ci rimane malissimo. Cosa fa allora? Il giorno dopo si fa trovare tutta coperta di post-it quando lui va a trovarla e su questi post-it che ha su tutto il corpo ci sono tante frasi per lui. La loro è una storia molto intensa, anche folle, appassionata, sincera, bella, bellissima e lo si percepisce sentendo parlare Giovanni. Vi preciso che il Chiari non viaggia in autostop, non ha mai viaggiato in autostop ma rispetta molto le idee di Pippa in merito. Poco prima dei fatti che tra poco vi narrerò, il Chiari e Pippa stavano costruendo casa. Una casa con le mattonelle chiaramente tutte verdi, con due water grandi e accanto uno piccolino, con due docce alte e accanto una piccola e con un lavandino grande con a fianco un lavandino più piccolino. Sì perché il Chiari e Pippa desideravano a breve avere un bambino. Il Chiari dice che con Pippa e ci crediamo non ti annoi mai perché conosce tantissime persone e anche nella persona più rivoltante lei riesce a trovare qualcosa di buono ma non è un'ingenua. Ad esempio Pippa ha rapporti con tutti i senza tetto di Corso Garibaldi ma una volta in particolare uno cercò di fregarla e lei chiaramente se ne accorse e lo rimise al suo posto. Un'altra cosa che mi ha molto intenerita è che il Chiari racconta che Pippa incastrava i loro spazzolini da denti mettendoli uno dentro l'altro come se si baciassero. Ovviamente il Chiari non lo avrebbe mai fatto ma Pippa era così. Ora ci fermiamo un attimo qui ed è giunto il momento di raccontarvi dell'arte di Pippa Bacca perché a questo discorso si lega poi il suo ultimo progetto. Questa è la parte finale della nostra storia. Il filo conduttore dell'arte di Pippa è la trasformazione di oggetti in altri oggetti utilizzando esclusivamente l'uso delle forbici. Nella sua opera Surgical Mutation, Mutazioni Chirurgiche, Pippa ritaglia delle foglie a forma di altre foglie ed ecco quindi che una foglia di fico si trasforma in una foglia di quercia ed apre un tema su cui l'uomo si interroga da sempre. Essere o apparire? Quindi che cosa è vero e che cosa è reale? Basta cambiare l'involucro esteriore per cambiare la sostanza? Nell'opera invece più oltre Pippa ritaglia a forma di mezzo di trasporto tutte le persone che le hanno dato un passaggio in autostop quindi sembra un'opera un po' cinica perché trasforma delle persone in mezzi ma in realtà il significato che lei vuole dare alla cosa è molto più profondo. Pippa nei suoi lavori affronta sempre delle tematiche molto importanti come la femminilità e la maternità. In un'altra sua opera famosa che si chiama Matres Mutates spero di dirlo bene Pippa riprende l'idea delle statuette in pietra rappresentanti le antiche divinità italiche dell'aurora e le ritaglie a forma di madri leggere e colorate che allattano molti figli quindi un bellissimo tributo alla maternità e poi lavora anche ad una serie dedicata alle sirene che vengono ritagliate nella carta verde e quindi ci riportano i miti antichi del mare e queste sirene di Pippa però sembrano quasi ritagliate da un bambino quindi realizzate con lo sguardo di un bambino non hanno l'aspetto fatale che in realtà appartiene anche alla sirena che è il simbolo di seduzione femminile ma anche di rovina. Poi Pippa realizza un bellissimo omaggio a Milano che sono queste bolle di nebbia ovvero dei grossi barattoli di vetro da marmellata dove Pippa infila delle piccole foto stampate che ha scattato in giro per la sua Milano e sono proprio dei ritratti di persone che ha incontrato per strada. Questi barattoli poi vengono successivamente riempiti da grappa e farina e agitati e la dispersione dei granelli di farina dentro al liquido crea questo effetto della nebbia milanese. Ho cercato il termine giusto perdonatemi milanesi se sbaglio si dovrebbe dire shigera shigera milanese. Cosa sarebbe questa shigera ovvero questo velo di nebbia che in inverno si alza in città e va a offuscare edifici auto e pedoni un po stile silent hill. Io vi potrei parlare di molti altri lavori di Pippa. Pippa ha realizzato tante opere che vi invito a scoprire ma in ognuno di queste opere l'artista in fondo in fondo ci impone di riflettere su un fatto. Riflettere sull'apparenza cioè tutto può riscattarsi ed avere una seconda possibilità grazie alle sue forbici e lei grazie a queste forbici prova proprio ad offrire una seconda chance a tutti. E ora è il momento di parlarvi dell'ultimo grande progetto di Pippa Brides in Tour ovvero spose in viaggio. A questo progetto Pippa lavorò per due anni. L'8 marzo del 2008 Pippa Bacca parte da Milano insieme a Silvia Moro un'altra artista con cui condivide questo progetto. Le due artiste vogliono percorrere in autostop vestite da spose, i paesi sconvolti da guerre recenti, lì dove ancora si respira l'odore della distruzione e della rovina. Undici nazioni da percorrere segnate da recenti conflitti e tensioni sociali. Dall'autogrill Sebino di Erbusco alla Slovenia, alla Croazia, alla Bosnia, alla Serbia, alla Bulgaria, alla Turchia, a Libano, alla Siria, all'Egitto, alla Giordania e a Israele. Il loro vuole essere un matrimonio con la gente, con la terra e con il diverso. Sono delle ancelle di pace e il loro è un messaggio di fratellanza universale. Ad entrambe le artiste piace tantissimo il concetto di spose errante e ognuna di loro ha una distinta performance artistica. Silvia sceglie l'anticarte del ricamo e chiede dunque alle donne che incontra durante le tappe del suo viaggio di realizzare dei ricami sul suo abito da sposa, per cui un filo simbolico che corre lungo tutto il Mediterraneo e uno reale invece e tangibile che viene disegnato sul suo vestito. Questi ricami vengono fatti da donne diverse, quindi da artiste famose, da persone comuni, da ricamatrici dei luoghi che lo fanno per tradizione o per professione. E Pippa? Beh, Pippa esegue la lavanda dei piedi alle ostetriche dei luoghi provati da guerre. Questo rito inizia in silenzio, poi a un certo punto Pippa chiede alle donne, alle ostetriche di parlare del loro lavoro. Chiede loro se si ricordano la prima volta in cui hanno fatto nascere un bambino e le loro esperienze emozionali riguardanti la professione. Nel mentre Pippa lava i loro piedi in ginocchio e li asciuga con la mantellina che parte del suo vestito. Infine li unge con olio profumato alla lavanda e regala alle ostetriche una piccola bambolina fatta all'uncinetto da lei durante il viaggio. Questa bambolina è una sposa fatta a mano da Pippa e nel dentre questa bambolina contiene un piccolo confetto che richiama proprio il matrimonio, quindi una sorta di bomboniera, ma anche la maternità perché il confettino la bambolina ce l'ha all'interno del del ventre. Quindi è tutto molto legato. L'idea finale conclusiva degli artisti è quella di realizzare alla fine del viaggio una mostra a Milano dove avrebbero messo a confronto i loro vestiti dopo il viaggio con due coppie identiche dei loro abiti. Quindi i vestiti sono stati entrambi realizzati in duplice coppia, quindi un vestito bianco, perfetto e intonso, contrapposto a quello contaminato dal viaggio. I vestiti delle due spose artiste sono molto diversi tra loro. Sono realizzati entrambi da Manuel Facchini e sono prodotti con fibre naturali per rispettare l'incontro con la natura ma anche agevolare il lavaggio e la traspirazione con l'esterno durante un viaggio dove comunque si cammina e si suda molto. In maniera più simbolica lo scopo è anche quello di favorire l'incontro fra anime. Silvia realizza una sorta di abito valigia, quindi ha soltanto l'abito indosso che pensate pesa 35 kg, mentre Pippa ha un abito molto diverso e ha un bagaglio verde, chiaramente verde a mano. Com'è il vestito di Pippa? Beh, il vestito è un vestito al contrario. Da dove nasce questa idea di un abito al contrario? Allora nel 2006 Pippa partecipa al matrimonio di una sua amica Margherita e rimane molto colpita dal fatto che la sposa in continuazione ricordi a tutti di non calpestare lo strascico perché si sarebbe sporcato. Pippa rimane molto colpita da tutta questa attenzione data ad un vestito che in fondo in fondo indossi solo un giorno della tua vita e così pensa ad un vestito al contrario, cioè un vestito da sposa da indossare per tutta l'esperienza, capace di trattenere ricordi, un vestito che si deve sporcare, che si deve consumare, vissuto. Un vestito dunque che cambia, che si modifica, che si contamina e Pippa lo indossa sempre, lo toglie solo per dormire e per lavarlo. Per loro la sposa è chiaramente un simbolo di amore e di purezza e quindi di vita per cui Pippa decide di contrapporre questo simbolo positivo a quello negativo dato dai paesi colpiti dalla guerra. L'abito di Pippa è composto in tre parti, ha una mantella, una giacca sfiancata e un'ampia gonna con strascico e questa mantella è quella che lei utilizza anche come copricapo ma allo stesso tempo per asciugare i piedi delle ostetriche a cui effettua i lavaggi. La gonna è a forma di giglio, simbolo di purezza e di innocenza e ogni strato della gonna rappresenta un pietalo, quindi ha 11 veli realizzati in materiali naturali che simboleggiano gli 11 paesi che le artiste affronteranno. Poi su alcuni punti del vestito ci sono anche dei ricami, gli stemmi delle bandiere dei paesi coinvolti e questo è anche a testimoniare la multiculturalità del progetto, per cui come vi dico sempre nulla è lasciato al caso. Pippa decide anche di indossare una cuffietta fatta da lei l'uncinetto bianca chiaramente per coprire i capelli e per rispettare le usanze dei paesi musulmani che le due spose attraverseranno e sceglie anche di indossare delle scarpe bianche con i tacchi alti e questa è una scelta simbolica e piena di poesia. Pippa infatti non ve l'ho detto odia i tacchi, in estate va sempre in giro in infradito e in inverno con gli scarponi eppure sceglie per affrontare un viaggio come questo di indossare delle scarpe con il tacco come simbolo di femminilità ma soprattutto perché sono molto scomode. Dunque essere donne e madre e costruire un cammino di pace richiede sofferenza e sacrificio. Lei fatica tanto con quelle scarpe e deve camminare molto su quei tacchi. Un'altra cosa che Pippa fa prima di partire perfettamente in linea con la sua educazione è quella di mandare un'email a tutti i suoi amici e come sempre organizzare un evento collettivo. Chiede ai suoi amici di portare con loro qualcosa da bruciare, ad esempio delle lettere, dei libri, delle magliette, qualcosa di importante, comunque qualcosa che abbia un significato. Quindi fanno questo gigantesco falò e poi con la cenere ricavata creano la lisciva che è questo antico detersivo ottenuto facendo bollire la cenere setacciata insieme a cinque parti d'acqua per alcune ore. Quindi le cenere di Pippa dovevano essere chiaramente speciali e i suoi amici le portano degli oggetti significativi da bruciare come spezie, libri, santini di benedizione e poi il vestito sarebbe stato lavato quindi con un detersivo molto molto speciale. Quindi con un detersivo non inquinante per giunta composto da un pezzo delle persone care a Pippa rimaste a casa. Veniamo alla scelta di andare in giro vestite da sposa. Questa non è una scelta legata solo a un significato simbolico poiché la sposa è molto sacra in queste culture. Inoltre anche andare in giro in maniera così vistosa in qualche modo ti protegge poiché hai sempre tutti gli occhi addosso. Lasciando spazio allo scetticismo di tutti che ci può stare al pensiero di tutti e io non sto neanche ad esprimere il mio perché lo sapete che non lo faccio però quello che è giusto dirvi è che Pippa ha progettato a lungo questo viaggio, nulla era lasciato al caso. Pippa ci ha lavorato due anni ed inoltre è un'autostoppista davvero esperta. Non è che è partita così vestita da sposa dal giorno alla notte senza nemmeno essersi fatta un piano. Era veramente tutto meticolosamente e dettagliatamente organizzato. E così tutto è pronto e le artiste creano anche prima di partire un blog, un sito per spiegare il loro progetto e per raccontare il loro viaggio, le loro giornate, le loro sensazioni e anche i video e le foto scattate on the road. Il viaggio inizia l'8 marzo del 2008 quindi il giorno della festa della donna con partenza da Milano ed è proprio il fidanzato di Pippa, il Chiari, ad accompagnarla in Vespa nel primo tragitto. Quindi lei sale sulla Vespa a Milano e lui la accompagna fino a sale Marasino. Silvia, l'artista che accompagna Pippa, racconta in un'intervista che non hanno mai trovato ostilità da parte della gente del luogo, anzi la gente è curiosa ed è benevola. C'è chi regala loro una rosa, chi le chiama angeli, ma nessuno si mostra mai scontroso o offeso dal loro passaggio. Chiaramente si muovono in autostop, la scelta dell'autostop è doverosa perché è gratis ma anche perché soprattutto alla base ha proprio il concetto di condivisione e di fiducia. Pippa e Silvia durante il loro viaggio vengono aiutate da persone di ogni tipo però hanno anche preventivamente organizzato una rete di aiuto e di supporto quindi grazie anche all'appoggio di associazioni non sono proprio così allo sbaraglio. Cosa succede però? Dopo alcune tappe Pippa e Silvia arrivano in Istanbul e da qui decidono di separarsi e di proseguire per alcune tappe da sole e ritrovarsi pochi giorni dopo a Beirut. Pare che i rapporti tra le due artiste fossero un po' tesi negli ultimi giorni, una cosa normalissima anche per chi lavora un paio di ore in ufficio, figuriamoci per due donne impegnate 24 ore su 24 in un progetto così ambizioso e così faticoso quindi una cosa anche normale se vogliamo. Nel frattempo Pippa si è tenuta costantemente in contatto con il suo fidanzato Il Chiari, non ci sono i social quindi lei invia a lui degli sms che poi lui gira la famiglia. Il 30 marzo, il giorno prima dei fatti tragici che sto per narrarvi, lui la raggiunge a Istanbul dove Pippa è rimasta appunto sola dopo essersi separata da Silvia. Giovanni nota che Pippa non ha più l'entusiasmo di prima, ha investito tutto in quel viaggio lavorando senza sosta ma tante cose non sono filate lisce insomma tante cose sono successe, molta stanchezza, degli imprevisti, alcuni sponsor che si sono ritirati, poi lo stress che ha colto le due artiste e quindi quando si separano quel 30 marzo Pippa scoppia a piangere ed è la prima volta che Giovanni, il Chiari, la vede piangere per lui. Rimane molto colpito da questo anche perché a loro si sarebbero rivisti solo nove giorni dopo a Damasco Pippa gli aveva anche comprato i biglietti dell'aereo per raggiungerla. Così si salutano, Pippa scoppia piangere, lui la rincuora e si ripromettono di rivedersi di lì a poco. Il Chiari riparte con un peso nel cuore e il 31 marzo alle ore 7.20 del mattino riceve un messaggio da parte di Pippa, l'ultimo. Eccomi al porto, tutto bene, mi scappa un po' di pipì ma aspetto dopo e ne faccio di più, baci baci. Poi silenzio assoluto. Il primo giorno di silenzio così assordante, il Chiari le scrive subito e le dice è brutto non avere tue notizie e poi nel cuore della notte si sveglia in un bagno di sudore. Quel giorno in particolare il Chiari è una regata e tutta la sua equip si rende conto di quanto lui si è agitato. Pippa ha infatti un pensiero fisso e lui controlla il telefono in continuazione. Poi questo silenzio continua e quindi tempestivamente il Chiari decide di partire con Antonietta, la sorella di Pippa che in realtà lui non conosce molto, però quando il Chiari parte ha già ben in mente, lo dirà lui, qual è il suo compito, riportare il suo grande amore a casa nella tomba di famiglia. Antonietta a differenza di El Chiari invece pensa ad un incidente, magari ad un sequestro e quindi lei e Giovanni si mettono subito in contatto con l'ambasciata turca e con il consolato che collaborano da subito e inoltre i due forniscono il codice e-mail, dovrebbe dirsi così, del cellulare di Pippa alla polizia, poi fanno volantinaggio e rilasciano molte interviste. Chiedono aiuto anche la nota trasmissione Chi l'ha visto e la redazione del programma in base alla sua esperienza è molto ottimista, pensano infatti ad un rapimento ma che tutto avrà una risoluzione. Però Pippa non si trova ed è proprio quel codice del cellulare di Pippa a dare la svolta. Il telefonino verrà ritrovato in un mercatino ma si risalirà all'uomo che l'ha utilizzato, un certo Murat Karatash ed è lui a condurre al luogo in cui verrà ritrovato il corpo della sposa di Pace, Pippa Bacca. Il corpo di Pippa, nudo e coperto di foglie, era stato abbandonato a Geze, a 50 chilometri a sud-est di Istanbul. Viene ritrovato il 12 aprile del 2008, 12 giorni dopo la scomparsa di Pippa. L'autopsia data alla morte di Pippa lo stesso giorno in cui Pippa fa perdere le sue tracce, lunedì 31 marzo. Anche il luogo dove viene ritrovata è all'interno di quella zona dove Pippa quella mattina quando manda l'ultimo messaggio a Giovanni era intenta a cercare un passaggio. Pippa cercava un passaggio per Tel Aviv, il suo ultimo passaggio in autostop. Sarà proprio Murat a raccontarlo in un interrogatorio. Pippa aveva tirato sul suo pollice piena di fiducia e lui si era fermato per offrirle un passaggio a bordo del suo camioncino modello Tata Nero. Poi si era allontanato deviando dal E5 e aveva preso la statale vicento fino a raggiungere una località Balikalayar nei pressi di un bosco. Lì all'interno della macchina era saltato addosso a Pippa, l'aveva denudata e le aveva fatto violenza intima. Poi l'aveva privata della vita volandola con un cordoncino. Dopo l'agguato, dopo aver terminato, lui trasporta il corpo nudo di Pippa nei pressi di un boschetto e cerca di coprirlo alla bella e meglio con delle foglie sotto ad un albero. Questo accade lunedì 31 ma sabato Murat è sorridente e stringe tra le mani una videocamera, quella di Pippa, mentre registra un filmato di famiglia. Quando la videocamera verrà visionata all'inizio ci sono le immagini delle due spose, si sente il rumore della strada, si vedono le persone che hanno dato i passaggi alle due artiste. Poi lo scenario cambia repentinamente, diventa il matrimonio della cugina di Murat. Dà i brividi pensare che effettivamente, come in un disegno, le ultime immagini di quella telecamera riprendono proprio il matrimonio di una sposa. Cosa sappiamo di più di questo Murat? In realtà non molto, ha 38 anni e i giornali del posto ne parlano come di un disgraziato allontanato dalla famiglia, separato e con due figli. Ha anche qualche piccolo precedente per furto ma nulla di che. Lui confessa tutto immediatamente ma non fornisce alcuna spiegazione, come se ci fossero spiegazioni per un atto del genere. Noi non sappiamo davvero che cosa sia avvenuto all'interno di quel furgoncino, non sappiamo che cosa sia avvenuto davvero a Pippa quella mattina, le ultime cose che ha detto o che ha pensato. Noi non sappiamo se Pippa con le sue intenne si sia resa subito conto di ciò che le stesse per capitare e se abbia tentato in qualche modo di fuggire o di opporsi. Non lo sappiamo. Sicuramente a un certo punto in quel furgoncino si sarà resa conto del martirio che avrebbe subito. Nel frattempo Antonietto e Giovanni sono ancora alle prese con le ricerche di Pippa e la sera del suo ritrovamento su una cena dall'interprete quando ricevono la chiamata da parte della polizia turca. Quella sera racconteranno c'è una strana tensione nell'aria e già quel pomeriggio la polizia aveva mostrato loro il cellulare di Pippa che era stato ritrovato appunto in questo mercatino. La notizia in realtà tragicamente è già rimbalzata in Italia in televisione ancora prima che la famiglia sia stata avvisata e devo dire che sono stati davvero delicatissimi nei passaggi. Quindi mentre Antonietta e Giovanni sono in macchina per raggiungere la questura ad Antonietta arrivano dei messaggi di condoglianze da parte dell'Italia. Poi arriva anche un messaggio della sorella Rosi che chiede se è vero che Pippa non c'è più. Antonietta è sotto shock e apprenderà così della morte di sua sorella quando ancora non le è neanche ben chiaro con dei messaggi e così il Chiari saprà che l'amore della sua vita non c'è più. Quando arrivano in caserma la tensione si taglia a fette, i fotografi e i giornalisti guardano tutti in basso senza parlare. Poco dopo Antonietta e il Chiari capiscono che sono lì per un preciso motivo ovvero per un riconoscimento. Vengono mostrati gli oggetti personali di Pippa, gli oggetti del viaggio quindi tutte le sue cose sono poggiate a terra su dei giornali. Il suo trolley verde, qualche gomitolo di lana, dei veli, del vestito e i suoi guanti. Vedere tutto quel bianco e poi vedere il vestito di Pippa strappato e macchiato di sangue rimane una ferita indelebile per Antonietta e per il Chiari. Io non mi posso dare dei dettagli che non so per certo quindi non so con esattezza chi abbia visto il corpo di Pippa ma pare che Pippa sia stata riconosciuta per delle cicatrici che aveva sul seno ma mi fermerai qui con i dettagli. A seguito di ciò la Turchia espresse con profondo cordoglio le più sincere scuse nei confronti di Pippa e della sua famiglia e fu molta più scossa in realtà l'opinione pubblica turca da quella italiana in effetti. In Turchia uscirono molti articoli di giornali dal titolo ci vergogniamo Pippa perdonaci. Il primo ministro turco poi ha fatto sentire anche la sua voce assicurando che il responsabile sarebbe stato adeguatamente punito. Il funerale di Pippa si è svolto il 19 aprile un mese dopo del 2008 nella basilica di San Simpliciano alla presenza di oltre 2000 persone. Le esequie sono state organizzate a spese del comune di Milano ed erano presenti diverse autorità come la sindacale Tizia Moratti, il consule turco Befik Fenmen e la ministra per le pari opportunità e così via. Ma soprattutto c'era la gente semplice che conosceva Pippa. Il coro delle Bubblegum, quello di Micene, cori importanti a cui Pippa partecipava, poi la confraternita di San Jacopo, i senza tetto di Milano, gli amici e molti di coloro che nel tempo avevano dato un passaggio in autostop a Pippa Bacca. La barra di Pippa venne ricoperta da un drappo verde e molti palloncini verdi riempirono il cielo di Milano. Oggi il suo corpo riposa a Casirat e Danda vicino a Bergamo. Ora veniamo ad un'altra parte assolutamente necessaria da raccontare. Allora su internet moltissime persone, i cosiddetti haters di oggi, si scatenarono contro Pippa e moltissime arrivarono in massa sul blog delle spose creato da Silvia e Pippa prima di partire per far sentire il loro odio. Allora non c'era Instagram né TikTok né Facebook, cioè Facebook esisteva ma era un po' all'inizio e quindi in realtà gli haters virtuali sono da sempre presenti e la storia di Pippa Bacca ce lo insegna. Una piccola anteprima di ciò che oggi puntualmente avviene. Quindi chi ha letto queste informazioni in modo veloce e bulimico non ha compreso nulla del messaggio di Pippa ma solo una cosa, cioè che Pippa era una donna un po' squinternata che un bel giorno si infila un vestito bianco da sposa e va ad esibirsi per le strade della Turchia. Quindi tutti compresero il peso e la violenza delle parole dette sui giornali ma non la profondità di Pippa. Quindi convincersi che Pippa in qualche modo se l'ha cercata rassicura e ci distoglie del fatto che il male esiste ovunque e lo dimostra il fatto che il giorno dopo la morte di Pippa un fatto analogo al suo accadde in stazione a Milano. Un'altra donna a Milano con un passaggio in macchina, una situazione simile insomma perì in ugual misura. Ora ognuno può avere chiaramente il suo pensiero e può anche esprimerlo però per la famiglia di Pippa fu drammatico vedere tutte queste persone accanirsi contro Pippa molti dicendo che in fondo in fondo le stava bene ciò che le era capitato. Però la famiglia di Pippa non ha mai permesso che il messaggio di Pippa e la sua arte andassero perdute e per questo non hanno mai avuto una singola posizione d'odio verso la Turchia e verso l'Islam. Dal momento che per la famiglia di Pippa il male umano non ha né un popolo né un'appartenenza ed è semplicemente ovunque. Loro hanno continuato uniti a diffondere la comunione tra individui e la fratellanza e hanno anche continuato a fare l'autostop. Ancora oggi la famiglia di Pippa fa l'autostop. Il Chiari è tornato solo a casa e lì si è trovato dei sacchettini che Pippa gli aveva preparato prima di partire con suo scritto per quando sei triste, per quando sei solo e una bottiglietta di champagne per ogni occasione diversa e lui ha continuato a sognarla per molto tempo. Oggi Murat è rinchiuso in carcere dopo essere stato condannato a 30 anni di reclusione dalla corte di Cassazione turca e non ha mai espresso pentimento per ciò che ha fatto a Pippa. Dopo questa tragedia in realtà il progetto di Pippa diventa un'opera d'arte assoluta. È stata fatta anche questa famosa mostra dove però manca il vestito di Pippa, il vestito del viaggio. Quest'opera infatti scatena una miriade di effetti politici e morali e soprattutto ha la capacità di scuotere intimamente l'animo umano che ne viene a conoscenza come il mio, come il tuo. Effettivamente di fronte alla morte di Pippa possiamo osservare due pensieri distinti. Chi la ritiene stramba, folle ed ingenua e chi invece la vede come coraggiosa ed idealista. E quindi possiamo pensare che sì, forse Pippa se l'è davvero cercata e che non doveva viaggiare in autostop per il mondo vestita da sposa perché se fai questo allora sì, ti capiteranno brutte cose. Oppure forse possiamo pensare che Pippa ha vissuto appieno facendosi testimone della sua arte e del bene. Sta ad ognuno di noi scegliere a quale parte credere. Io concludo con alcuni passi della storia di Pippa. Allora durante una lavanda dei piedi Pippa chiese all'ostatrica davanti a lei secondo te se uno vede il dolore e la gioia di una nascita può uccidere? L'ostatrica la guardò a lungo e poi le rispose no in modo deciso e Pippa continuò a lavarli i piedi e poi dopo un momento di silenzio le disse sono felice della tua risposta. Alda Merini che io personalmente amo le ha dedicato due poesie. Una è questa. Abito bianco per andare a nozze con la tua morte e con quella di noi tutti. Ti sei vestita di bianco ma siccome la tua anima mi sente ti vorrei dire che la morte non ha la faccia della violenza ma che è come un sospiro di madre che viene a prenderti dalla colla con mano leggera. Non so cosa dirti io non credo nella bontà della gente. Ho già sperimentato tanto dolore ma è come se vedessi la mia anima vestita a nozze che scappa dal mondo per non gridare. Concludo con una frase che Pippa scrisse durante il suo viaggio nel blog e che ricordo a memoria. Ho capito che il senso di questo viaggio è quello di mantenermi il più bianca possibile. Allora in fase finale il video è terminato vorrei dirvi semplicemente due cose. Per me è stato molto difficile raccontare questa storia veramente molto difficile credo che si sia anche visto ci ho anche messo più tempo del dovuto a raccontarla perché non è una storia semplice da raccontare e non credo che tutti riescano a raccontare una storia di questo tipo. Probabilmente non ci sono riuscita nemmeno io. Quindi vi vorrei anche segnalare il libro che è stato il mio libro guida in questa storia oltre ad articoli di giornali e appunto informazioni che ho trovato anche su internet. Però il libro che ho utilizzato è questo qui ok questo libro qui che si chiama sono innamorata di Pippa Bacca chiedimi il perché che tra l'altro è una spilla che Pippa ha creato c'è tutta una storia ma la ritroverete qui dentro se lo acquistate. Queste spille con scritto sono innamorata di Pippa Bacca chiedimi il perché le ha create lei proprio a seguito di una delusione amorosa. Vabbè c'è tutta una storia dietro c'è tanto qui dentro. Questo libro è di Giulia Morello e io mi sono rifatta molto questo libro comunque l'ho letto nel dettaglio l'ho studiato ma dentro ci trovate anche email insomma anche documenti e poi tutto un percorso proprio che la scrittrice ha fatto per raccontare Pippa insieme alla famiglia e in questo racconto c'è anche il viaggio in autostop che Giulia Morello fa con una delle sorelle di Pippa questo libro in verde racconta la storia di Pippa e io ho voluto portare la storia di Pippa su youtube perché è una storia che mi ha colpita tantissimo e che inizialmente mi ha ferita. La prima volta anche io sono stata vittima un attimo di questo pensiero cioè ma cosa c'è andata a fare? Poi ho letto tutta la storia ci sono entrata dentro e ho sentito il desiderio di raccontarvela prendendo anche se vogliamo su di me una sfida nel raccontare questa storia perché insomma capirete che è una storia molto molto complessa. Io non aggiungo nient'altro vi leggo come sempre spazio ai vostri commenti e fatemi sapere che cosa ne pensate e se già conoscevate la storia di Pippa se vi va acquistate il libro o leggetelo insomma in qualche modo io non me ne viene nulla in tasca la famiglia non sa del mio le mio video l'autrice del libro non mi conosce quindi non ho nessun tipo di tornaconto questo libro tra l'altro me lo sono fatta regalare da mio fratello per il mio compleanno a novembre però io vi consiglio di leggerlo vi consiglio sempre di leggere dei libri oltre ad ascoltare il video e dovrebbero esserci anche altre cose anche un documentario su Pippa Bacca che io però non ho visto ancora insomma scoprite anche un po la sua arte guardate anche di lei si vi va io l'ho fatto e ne sono stata contaminata in maniera positiva posso dire con tutta onestà che una persona che avrei conosciuto volentieri pur essendo molto diversa da me io non farei mai una cosa di questo tipo io nella vita faccio altro ma non c'è giudizio io non potrei mai immaginare di fare un progetto di questo tipo no mi spaventerebbe anche tanto e Pippa ha compiuto il suo percorso ha vissuto la sua vita ha lasciato un messaggio e oggi io sono qui per raccontare la sua storia fa parte del true crime ma fa parte soprattutto della vita e di quello che le storie delle altre persone ci possono insegnare io vi ringrazio anche oggi per avermi seguito e noi ci vediamo ogni martedì grazie a tutti